no 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 chi è che deve svegliere? a quello che non si è rialzato ma forse sta bene a casa mia a casa mia se no manda al cavo nessuno qui ok firma firma ma per quello che mi fai un favore anche a me guarda non ti preoccupare fai il tuo lavoro dai per favore non 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 Grazie a tutti.